Due donne sono state fermate e portate in caserma a San Giuseppe Iato in provincia di Palermo dopo una lite scoppiata in via del Anime Sante per futili motivi tra due nuclei familiari. Una donna ha impugnato una pistola della compressa caricata a pallini ed ha esploso alcuni colpi contro una coppia di coniugi, farendo la donna di striscio al volto ed il marito al braccio. Quest'ultimo è stato curato dalla guardia medica mentre la moglie è stata trasportata dal 118 al civico di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni della vicenda non è la prima volta che le due famiglie litigano per problemi di vicinato. Anche la sorella della donna che ha sparato è stata fermata dai carabinieri, sarebbe stata pronta a sparare con un altro fucile a della compressa. Entrambe sono accusate di tentato omicidio in concorso. La rissa sarebbe scatenata a causa della musica ad alto volume diffusa dai vicini che in passato aveva provocato altre risse e denunce.